Assessore Vesco, i lavori alla garreria Biassa terminati entro i termini stabiliti, salvata la stagione estiva del 2013, da domenica riparte il servizio, tutto a posto? Sì, i lavori sono terminati e devo dire che è stata anche una scelta giusta aver accolto le richieste che il territorio ci aveva fatto, di non intervenire a ottobre ma di spostare, quindi consentire la stagione turistica fosse completata col servizio a doppio binario. Le preoccupazioni fortunatamente sono state smentite, quindi anche l'incidenza delle piogge non ha impedito di raggiungere questo obiettivo che era prefissato, quindi complimenti all'azienda e alle maestrate che bene hanno operato e ci hanno consentito di mantenere i tempi che erano stati anticipati. Domenica entrerà in vigore l'orario con le due gallerie funzionate, quindi verranno ripristinati tutti i treni che erano stati tolti proprio per la difficoltà di questo cantiere e soprattutto ci aspettiamo che Trenitalia metta in atto tutte le azioni perché quei ritardi che hanno colpito così pesantemente questo periodo del cantiere della Biasa, sia sul servizio regionale sia sul servizio a lunga percorrenza, vengano meno. Più volte sono intervenuto, ho protestato, ho chiesto conto a Trenitalia, soprattutto negli ultimi tempi c'è stata un'incidenza negativa, più volte evidenziata anche dai pendolari, dagli utenti del servizio sui treni a lunga percorrenza che hanno maturato ritardi veramente insostenibili e in tutte quelle occasioni la giustificazione che anche da Roma veniva erano legate ai lavori di questa galleria. Da lunedì scuse non ce ne sono più, ci aspettiamo quindi che tutti quei disagi e quei ritardi vengano meno, in alternativa dovremo chiedere conto a Trenitalia che peraltro è già invitata a venire a Genova a direzione passeggeri, proprio perché non avendo competenza sui treni a lunga percorrenza non ci vogliamo sottrarre da avere comunque un ruolo di tutela di tutti i nostri cittadini, di tutti i nostri pendolari perché tra l'altro ne abbiamo anche titolarità in parte perché gli sosteniamo il loro trasporto pagando una quota della carta tutto treno che va a direzione passeggeri nazionali. Quindi un passaggio positivo, ci vorrà un attento monitoraggio sull'evolverse e il miglioramento del servizio a cominciare da lunedì a cui chiederemo conto anche a tutti i pendolari, ai comitati, a chi li rappresenta, di darci una mano per vedere se il miglioramento che ci aspettiamo con l'entrata in funzione di questa galleria è evidente e quindi possiamo tirare un sospiro di sollievo e mettere dietro di noi un periodo che è stato veramente difficile. Questa galleria ha creato un vero calvario ai pendolari di questa tratta e peraltro molto peggiore di come ci si potesse aspettare. In passato i lavori della Galleria Ruta non avevano dato questo esito negativo e quindi capisco le preoccupazioni e anche la rabbia di questo periodo che spero possa essere messo alle spalle di tutti.